Ho fatto la maturità come restauratore, sono restauratore, sono laureato e come me è strapieno, purtroppo è strapieno perché all'interno della nostra azienda ci sono tantissimi laureati di ogni genere che non trovano lavoro. Quasi tutti hanno la laurea in storia dell'arte, restauro, di tutto. Mario Nesca era colui che dirigeva i McDonald's e ora è alla cultura. È direttore del ministero. Che cosa vi rimprovera? Vi dice che potete aspettare fino a marzo. Sì, perché lo sciopero secondo lui è legittimo e mentre noi è da luglio che abbiamo rievocato due scioperi perché loro, quindi il ministero della cultura, aveva promesso che avrebbe messo una clausola all'interno del nostro contratto che noi non abbiamo e quindi ci sono due scioperi che noi rievochiamo. Lavoro in diversi musei per coprire i vari servizi che ci sono all'interno dei musei. C'è una clausola sociale, si chiama. Io personalmente non so, perché non sono un rappresentante sindacale, se nelle altre città, nelle altre stazioni appaltanti ci siano o no già incluse queste clausole. Dipende dai contratti nazionali. In questo caso da noi sicuramente non c'è. Perché siamo nel commercio. Non c'è perché siamo nel contratto nazionale del commercio. Per questo nostro tipo di situazione non è... E la vostra situazione è legata all'andamento delle gare praticamente. E' andata all'andamento... A chi viene appaltato il lavoro. Sì, praticamente si demanda alle ditte che vinceranno la completa discrezionalità su chi riassumere o meno, sempre nel caso che vengano assunti. Non sono garantite nessun tipo di livello. Quindi anche se uno ha un contratto a tempo indeterminato... Non è garantita la riassunzione. Non è una tutela. Non è tutelato in questo caso. La gara l'ho fatta io nel 98, quando ero soprintendente, ed ha filato perfettamente per 12 anni. Non c'è stata una manifestazione, uno sciopero. Però oggi Firenze è la prima città che protegge. In questi 12 anni la concessionaria ha fatto profitto, come giusto, perché non è una società di beneficenza, ha fatto fare profitto all'amministrazione dei beni culturali, ha dato lavoro a 350 persone. Questi sono dati oggettivi, incontestabili. Ha fatto sì che noi si fosse riassorbiti dalla nuova gestione che è stata poi della Firenze Musei di Opera Laboratori Fiorentini. Però le norme per cui vi ritrovate ora così erano già quelle. Erano già quelle. Firenze è la prima città, anzi finora è l'unica che si ritrova in queste condizioni, a differenza di Roma, Venezia. Certo, probabilmente siamo un po' in ritardo rispetto al lavoro che avremmo dovuto fare molti anni prima per tutelarci.